e allora ragazzi salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video io sono gazzetta 4 e io sono new734 ed oggi siamo sull'account di sud tfsud bella proprio stilosa tipo dj sud tfsud mi spudare e rolleremo per lui 11.800 gemme quindi grazie alla ricerca di zittadu alla ricerca di principalmente stregone cavalier teschio rocco ecco lui cercava rocco valentina babbo natale e altre copie successivamente anzi lo facciamo prima possiamo aprire una cassa talento livello 5 aspetta ho visto una carta 4 4 4 io le volevo fare io vedi non ne trovo niente un duca zucca non ne trovo niente io ne trovavo 3 di duca zucca e un teschio ma smettila si diceva che possiamo aprire una cassa talento livello 5 ma mi sa che va ancora acquistata vediamo un po' si va acquistata olè spero di non aver sbagliato account sul quale acquistare la cassa altrimenti eeeh e allora ragazzi in questa cassa cercheremo i talenti bastione 5 su 5 ovviamente 5 su 5 su 8 oppure furia 5 su 8 quindi vediamo un po' la zucca con rigenerazione 3 cambiamo e troviamo furia io ovviamente tu la mia faccia devi capire buono 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 se troviamo l'eroe che voglio trovare è ottimo colpo mortale 5 se riusciamo a trovare il teschio in queste rollate si è veramente veramente ottimo ok lo trovo io non è un problema si si ma guarda ne sono sicuro cioè voglio proprio vedere che cosa sei in grado di fare vediamo un po' quante slot abbiamo uno abbiamo un sacco dov'è l'altare degli eroi a chi lo trova prima eccolo ma come hai perso ma non lo stavo neanche guardando anzi dai io ho fatto la rollata da 5 quindi cioè la cassa talento quindi cominciai tu ok teschio bellissimo è questo il teschio si sicuramente ma non l'hai trovato neanche tu ma io non mi fai il limite guardatele uno beh wow signora rollata ce ne vuole per fare signora rollata tocca a me mamma mia meglio se non tocca a te ma stai zitto ma guarda ancora però nessun leggendario è strano ecco un druido invece il druido non lo cercava non c'è sulla lista non ha cercato non c'è non ha cercato neanche tutte queste linfe ma servono per alzare le skill ma zitto chi è neanche il paladino neanche il paladino ma non è sulla lista sto vincendo io intanto metti sto vincendo io ma zitto chi trova il teschio vince tutto va bene è fantastico ok teschio dove il teschio dracula lo cercava? dimmi che cercavi dracula no non era lui era quello di prima che cercava dracula mi dispiace vabbè abbiamo trovato dracula sull'account che non cercava dracula è benissimo dai pronta? si ah tocca a me giusto allora la faccio io pronta vai tocca a te ok teschio 3 a 0 spero di trovare un teschio sennò veramente mi hai stracciato stavolta come sempre come sempre comunque strano cioè la legge dei grandi numeri dice che ogni tanto dovrei vincere anche io invece no un ninja un legendario sei 3 a 1 e guarda era pure in lista ma dove? no e pronto recuperone boom mamma mia potevano essere due vero e leggendari veri 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 ahah aiuto ultimo roll attenzione 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 se becco uno di quelli che cerca ho vinto no non è vero sono teschio 30 euro non lo cercava si che lo cercava non è vero lo stai scrivendo adesso è scritto qui lo stai scrivendo adesso abbiamo vinto sei zitto cercava il 30 euro non è vero ho vinto tutto andate indietro al video non lo dice zitto e anche 30 euro questa parte qui la metto all'inizio del video no così vinto no non è vero l'ho aggiunta dopo quindi chi ha fatto schifo tu chi ha trovato il 30 euro ma stai zitto non cercava il 30 euro no quindi ragazzi questo video giunge al termine io spero vi sia piaciuto dovete lasciare un like un commento soprattutto se ancora non l'avete fatto ad iscrivervi al canale per eventuali informazioni consultare il foglietto illustrativo e il medico chirurgico ciao a tutti ciao 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 Grazie a tutti.